Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, bisogna parlare, bisogna parlare di cose importanti perché ci sono novità importanti Innanzitutto, fatevi salutare con l'acqua che se ne vuole via, io sono andato a giocare al magico football Ho l'ermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette Perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio-mercato, parliamo di voci di mercato, parliamo anche quasi di ufficialità di mercato Perché il Napoli ha chiuso Pasquale Mazzocchi, Pasquale Mazzocchi è un nuovo giocatore del Napoli Questa bottiglia mi ha già scartavetrato i gioielli di famiglia, il modo educato di dirlo Pasquale Mazzocchi è un giocatore del Napoli per una cifra intorno ai 3 milioni di euro E ragazzi, io vi dico la verità, secondo me questo è un grande colpo È un grande colpo per più motivi ed è un grande colpo che porta a fare dei ragionamenti Perché dico questo? Tutti i nomi in generale portano a fare dei ragionamenti che possono essere graditi o meno Allora, innanzitutto il Napoli si porta a casa Pasquale Mazzocchi, stamattina ha fatto le visite mediche Probabilmente quando vedrete questo video ci sarà già stata l'ufficialità oppure in procinto di Non ne ho idea Però siamo lì, il giocatore è già arrivato a Villa Stewart A meno che non succeda un qualcosa di clamoroso, Pasquale Mazzocchi è il giocatore del Napoli Viene dalla Salernitana ed è un acquisto che andava fatto, parliamoci chiaramente 5 mesi fa Andava fatto quest'estate, o lui o Marco Davide Faraoni, ne abbiamo parlato un minuto di volte Ogni volta che noi dicevamo chi vuole la permanenza di Zanoli a Napoli non vuole il bene Né di Zanoli né del Napoli Perché dico questo? Perché quando tu tieni uno davanti come Giovanni Di Lorenzo Tu la crescita, come la puoi effettuare? Come puoi crescere come giocatore? Come puoi pensare di diventare quello che potresti essere? Perché ragazzi, Zanoli è un ragazzo con talento, un terzino con talento Un eventuale forse esterno a tutto campo di talento E mi ricordo che quando si parlava di Zanoli al Genoa Io ero contentissimo perché secondo me nel Genoa fare l'esterno a tutto campo Avrebbe potuto fare veramente molto bene Ha fatto molto bene alla Sampdoria l'anno scorso Giocando anche alto in un 4-2-3-1 Perché ha comunque delle qualità offensive molto valide Uno molto veloce E quando tu sei dietro a Giovanni Di Lorenzo Che letteralmente non si salta una partita Speriamo sempre bene E che è il capitano del Napoli Che non può essere tolto da questa squadra A meno che non succeda qualcosa di clamoroso Perché tenerlo? Non aveva senso tenerlo E quando lo diciamo No perché poi quello è importante Garzia lo vuole, crede in lui E abbiamo visto Mazzocchi è perfetto Innanzitutto Lui nasce in una zona più avanzata del campo Però è un giocatore molto utile Uno che può giocare sia a destra che a sinistra Considerato il fatto che noi Il problema sulla sinistra ce l'abbiamo ancora Perché Olivera non è tornata E poi il problema del terzino sinistro Non è neanche Cioè noi ce l'abbiamo nel sangue Ce l'abbiamo letteralmente nel sangue Il problema del terzino sinistro E Mazzocchi può giocare da entrambe le parti A me il discorso del chi difende Non difende Non mi piace È lo stesso discorso che si faceva per Cancelo Chiaramente parliamo di due livelli completamente differenti Però il Napoli è una squadra votata all'attacco È una squadra che deve tenere la palla Mazzocchi è uno che comunque la fase difensiva la sa fare La fase difensiva poi la deve curare principalmente l'allenatore E a proposito di allenatori I famosi ragionamenti che dovevamo fare prima Perché i giocatori che stanno uscendo I nomi che stanno uscendo Fanno pensare sempre di più Ad un possibile passaggio definitivo Ad un modulo a tre Voi sapete che io non amo parlare in generale di moduli Ma preferisco parlare di compiti, di interpretazioni Poi chiaramente esiste lo schema base Poi è tutto relativo Bisogna muoversi in base agli spazi che si creano Bisogna muoversi per creare gli spazi Bisogna andare ad occupare magari lo spazio del proprio compagno Non hai detto che se tu sei terzino destro Ti rimani terzino destro Ricordate sempre le parole di Luciano Spalletti Non ve le dimenticate mai Ed è importante fare questo tipo di ragionamento E chiaramente il primo nome che viene in mente È sempre Antonio Conte Perché quando si pensa a Dragusin Si pensa ad Antonio Conte Quando si pensa a Oiberg Si pensa ad Antonio Conte Quando si pensa a uno come Pasquale Mazzocchi Si può pensare ad Antonio Conte Si possono fare questi collegamenti Perché chiaramente magari siamo anche noi Che viaggiamo con la mente Che ci facciamo mille mila film Però È possibile È possibile Io non metto in dubbio che Napoli Possa provare a cercarlo di nuovo A fine stagione O che magari abbia già l'accordo per fine stagione Chi lo sa Io penso che sarebbe stato perfetto 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 Nella prima sosta dove andava esonerato Rudy Garcia dopo la Fiorentina Non so se ripartirei effettivamente da lui A giugno Sarebbe comunque Antonio Conte Sarebbe comunque un colpaccio incredibile Che ti porta gente Che ti porta A un mercato importante Che ti porta A un certo rigore E che ti porta risultati In maniera Anche Anche bella da vedere Perché comunque Antonio Conte È uno che si evolve tanto È uno che studia continuamente E quindi Sarebbe comunque un allenatore Che può fare al caso del Napoli Magari viene a fare il suo famoso 4-2-4 Che fece Al Bari E tutto può succedere Veramente tutto può succedere Io Io impazzirei se ripartissimo Magari da un Da un allenatore giovane Da un palladino Da un Tiago Motta Che già c'è rifiutato Da un Da un Farioli Questa gente qua Secondo me sarebbe veramente Tanta tanta roba Però Chiaramente Antonio Conte Non è di certo Un piano B E tutti questi calciatori Fanno pensare Ad Antonio Conte Non penso Arriverà Hoiberg E vi dico la verità Non penso Arriverà neanche Dragusin Cioè io parlo Proprio di quella Che può essere Magari la L'idea Della società Io penso che alla fine Dragusin andrà al Tottenham Penso che Hoiberg Non rientrerà Nei colpi del Napoli Però Mazzocchi comunque Un esterno a tutto campo Per me perfetto Vice di Lorenzo Il Napoli Secondo me Fa un buon colpo Fa un buon colpo Non è stato visto Benissimo da molti Secondo me È un upgrade Oggettivamente Di Alessandro Zanoli Almeno Nella maniera più immediata Lo è Nel senso più stretto Lo è Poi bisogna vedere In futuro Cosa diventerà Zanoli Sperando che Algenova Possa acquisire Ancora più fiducia Io penso che comunque Lui difficilmente A Napoli avrà spazio Per fare Per fare benissimo Perché di Lorenzo Penso voglia chiudere La carriera a Napoli A meno che Veramente non si tratti Poi di Cioè non si vada a fare Un Un modulo Con una difesa a tre Significa con tre interpreti Che fanno i difensori centrali Con l'esterno a tutto campo E lì magari Zanoli potrebbe effettivamente Trovare Trovare dello spazio E sarebbe interessante Da vedere Con Antonio Conte Io Parlo di Antonio Conte Come se fosse Una cosa già fatta Che non è assolutamente Però Tutto può essere Per me Pasquale Mazzocchi È un colpo Da 6,5-7 Anche per il rapporto Qualità-prezzo Perché Cioè i 3 milioni Secondo me Mazzocchi Li vale Era uno Era il mio preferito Diciamo Sulla lista Tra quelli Ce ne parlavo Anche quest'estate Preferivo lui Anche a Faraoni E bene Bene così Valido tecnicamente Valido offensivamente Uno che c'ha comunque Delle buone doti balistiche Che ti può fare assist Che ti può fare il gollettino Bene Bene così Bene così Ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere quello che pensate voi Con un commento qua sotto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale In descrizione troverete Facebook Instagram Twitter Tutto quello che volete Sarà lì giù Troverete anche G7 Shorts Il mio canale Obbligo Teleclip Momenti iconici Momenti divertenti del canale TikTok preferiti Noi ci vediamo la prossima volta Sempre e comunque Tutta la vita Forza Napoli Grazie a tutti